Dunque signori, sono qui perché ci tengo a ricordarvi che sabato e domenica prossimi 24 e 25 di novembre dalle 10 alle 17 qui al Nuovo Teatro San Paolo ci sarà uno stage interessantissimo condotto da Lucilla Mininno, una autrice, regista, attrice, molto brava, molto in gamba sulla recitazione cinematografica, la pratica del cinema è il titolo dello stage molto interessante perché forse non tutti sanno che c'è una grossa differenza tra le recitazioni teatrali e quella cinematografica e credo che sia fondamentale per un attore andare ad approfondire proprio questi due diversi aspetti del mestiere a volte in teatro nella maggior parte dei casi siamo abituati ad usare dei gesti molto eclatanti a usare la voce in un certo modo, l'esatto opposto di quello che invece viene richiesto quando si ha a che fare con la recitazione cinematografica uno sguardo, un movimento di un sopracciglio uno stringere, quasi chiudere gli occhi possono a volte significare molto di più di un gesto eclatante niente, neanche questa però è carina perché da lì possiamo pure agganciarci a qualche inquadratura, a qualche dettaglio esatto, quello voglio fare così poi vedono quello che si potrebbe fare esatto, ho capito? grazie a tutti